Weekend ricco di appuntamenti calcistici. Per il campionato di prima categoria tornano in campo lo Schacca SRLS e il Ribera 1954. I seccensi giocheranno in trasferta sul campo del Don Bosco Partinico. Il calcio d'inizio è previsto domenica alle ore 15. I neroverdi devono assolutamente cercare tre punti anche in trasferta, se vogliono conquistare la vetta del torneo. La squadra di Mario Putaggio presenterà in campo i due nuovi acquisti presentati durante la settimana. Si tratta di Marco Guerreri, difensore Ezganci, e Manfredi Masulo, centrocampista proveniente dal CUS Palermo di Giovanni Tedesco. I due nuovi calciatori vanno ad aggiungersi all'attaccante Vincenzo Coco, che ha già esordito domenica scorsa durante il match vinto contro l'Altofonte. La società, quindi, sta cercando di rimpolpare l'organico per dare più scelta al mister Mario Putaggio. Impegno casalingo, invece, per il Ribera 1954, che attende la visita del Libertas Marsala. Al Nino Novara i Crispini proveranno ad allungare la striscia consecutiva di vittorie per accorciare la classifica nei confronti delle dirette concorrenti. Il match sulla carta dovrebbe essere alla portata dei padroni di casa, che in questo momento viaggiano sull'onda dell'entusiasmo. In promozione, trasferte delicate sia per l'Ares Menfi sia per l'Atletico Libera. I menfitani saranno impegnati a Campobello di Mazzara contro una squadra coriacea e difficile da affrontare. Il team di Pizzitola, finora, lontano dalle mura amiche, ha sempre vinto. In casa, invece, viene da una sconfitta e da un pareggio consecutivo. L'Atletico Ribera di Pasquale Borsellino va a cercare la vittoria sul campo della Nuova Sancis. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica. Hanno 13 punti a tre lunghezze di distanza dalla capolista Canicattì. Dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, dopo un infortunio, il bomber caravana, la cui assenza si è sentita molto tra le fila dei crispini.